Buongiorno a tutti, oggi volevo parlarvi dello shop del canale. Dato che si sta avvicinando Natale e molti mi hanno chiesto ma cosa posso regalare per un appassionato di uncinetto, oltre la lana e gli uncinetti che non vanno mai male, mancano sempre, mi sono fatta venire un po' questa idea. Io, oltre a lavorare all'uncinetto disegno, con la tavoletta grafica, eccetera, e quindi ho pensato di realizzare alcuni maioni, felpe, con dei disegni a tema uncinetto. Quindi oggi volevo farvene vedere alcune. Quello sicuramente più caratteristico è questo qua, con questo disegno della mattonella. È uno stile molto giovanile, però secondo me si può anche adattare. Però ad esempio se avete una nipote, piuttosto che un'amica, una fidanzata o un fidanzato, perché comunque sono tutte taglie unisex, secondo me può essere un pensiero carino comunque. Allora, questa qua è disponibile solo in bianco, perché ho pensato che fosse il colore più adatto per far risultare i colori della mattonella. Dopodiché, ecco, è presente sia senza cappuccio, sia col cappuccio, che nella forma maglietta. Poi vabbè, già che c'ero ho fatto un po' di merchandising del canale, quindi ci sono anche le felpe che ho scritto Mami. Perché non sapesse la storia del nome del canale è nato un po' da mia nonna, che quando è mancata io ho ereditato tutti i suoi filati e gli uncinetti, e non volendoli sprecare ho imparato a lavorare all'uncinetto. E lì è nata tutta un po' la storia. Lei si chiamava Maria Luisa, però noi la chiamavamo Nonna Mami. E quindi ho voluto fare questo gioco di parole dedicato a lei. E queste qua, alcune felpe, sono disponibili in diversi colori. Altre, tipo la maglietta, sì, la maglietta, è disponibile anche tipo in viola, e altri colori, insomma, anche color sabbia. Però questo, vabbè, è un po' più legato al canale. Mentre sempre restando in tema degli amanti dell'uncinetto, ho realizzato anche questa grafica con il gomitolo dorato al centro, un po' come fosse un gomitolo magico. E qua in piccolo c'è scritto whip, che in inglese vuol dire work in progress, un po' come se dietro alla lavorazione dell'uncinetto ci fosse un piccolo incantesimo, ecco. E anche questo è disponibile in bianco e in nero, che secondo me in questo caso rendeva molto bene. Anche questa c'è senza cappuccio e con il cappuccio, o in formato maglietta. L'ultima grafica che ho fatto è questa lumachina, in cui al posto della chioccia, della parte superiore, c'è un gomitolo di lana. Questa qua è quella, secondo me, più giovanile, più versatile, soprattutto tra i molti giovani, anche maschi, si usa molto questo stile, con scritto take it slow. Per chi non lo sapesse, l'uncinetto fa parte di una di quelle tecniche che vengono assimilate alla slow fashion, quindi tutta una modalità di creare abiti, fatta a mano ovviamente, che richiede tanto tempo. E quindi la slow fashion, diciamo, va in controposizione al fast fashion, quindi una cosa che dedica, che per essere realizzata, ha bisogno di tanto tempo, anche in termini di capacità. Ho fatto anche le cover, ci sono diversi cover con questa grafica e con la scritta mami. E niente, volevo raccontarvi velocemente questa, questa novità, perché oltre ovviamente a supportare il canale, che non fa mai male, è comunque un'ottima idea come regalo di Natale se avete delle figlie, dei figli, degli amici, delle amiche appassionati di un cinetto. Spero che questo vi serva nella vostra lista di regali natalizi. Vi ringrazio e ciao!